benvenuti benvenuti cari amici siamo abiti a questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggi i bottoni like, iscriviti al canale, iscriviti anche al canale Tegra, oggi andiamo a parlare di bitcoin, ethereum, shiba inu, cardano, tron e infine i metaversi perché stanno facendo un qualcosa di devastante ma iniziamo subito con bitcoin perché cosa ci dice tech dev attenzione siamo sotto la fibonacci di 1.68 come avvenne effettivamente nel 2013 2017 e quindi potrebbe aspettarci un bel rally naturalmente voglio sapere anche da voi nei commenti ok secondo voi che cosa succederà e per cui andiamo subito a vedere questa notizia che dal mio punto di vista è fortemente bullish perché morgan stalli ha deciso di allocare ok maggiori bitcoin e pensate ora sta soldando 300 milioni di dollari in azioni sostanzialmente di grayscale però che si rifanno a bitcoin per cui questa notizia fortemente bullish perché un istituzionale di livello di grayscale è su bitcoin e sta ancora comprando quindi detto questo dal mio punto di vista dove siamo in questo momento vi ricordate settembre sostanzialmente in cui avevamo avuto quel piccolo dump di circa il 20 per cento dal mio punto di vista stiamo riproducendo esattamente quella collection di settembre quindi anche qui abbiamo preso un meno 20 per cento se si dovesse riprodurre a fine novembre ok inizio dicembre la stessa action potremmo raggiungere i 82 mila bar 83 mila dollari questo è il mio prossimo target naturalmente come sempre non sono né consigli finanziari né consigli trading ora andiamo a vedere un'importante notizia per quanto riguarda ethereum perché pensate più di un milione ethereum sono stati bruciati dall'inizio di aggiornamento del ipi 1559 ok che è iniziato in agosto ed effettivamente se andiamo a vedere i numeri ok sono questi qui un milione di ethereum bruciati la maggior parte naturalmente suo pensi perché come noi sappiamo la rete ethereum è necessaria per l'utilizzo degli nft e praticamente tutto gira su ethereum quindi voi potete capire il futuro che ha ethereum ora se andiamo a vedere quella che la action di ethereum siamo a 4.300 dollari stiamo sostanzialmente più o meno lateralizzando stiamo seguendo bitcoin però attenzione attenzione perché vi parlavo anche di un possibile target su bitcoin di 53 mila dollari ma abbiamo visto come questa notizia grayscale che sostanzialmente oggi ci ha comunque tirato un po' su e quindi che cosa mi aspetto da ethereum sostanzialmente che ethereum ok prende riparta insieme a bitcoin e superi sostanzialmente quello che è il suo vecchio ultramai di 4.900 dollari ora notizie molto importanti riguardano shiba inu ok perché abbiamo visto come shiba inu sta sostanzialmente dampando secondo me dal mio punto di vista è un'ottima ready buy se riuscirò già oggi questa sera vi farò anche un video particolare su shiba inu che cosa ci dice questo articolo che gran parte o che dei retail sta abbandonando shiba quindi il fatto che dei retail stiano abbandonando shiba e quindi stiano abbandonando la nave secondo me è molto molto interessante perché cosa ci dice demune ci dice che sostanzialmente shiba inu sembrava rotto il triangolo bearish ok che si era andato a formare ora vorrei fare un piccolo ragionamento con voi perché shiba inu ora ha una cap di mercato di 21 miliardi di dollari eravamo arrivati a circa 30 miliardi se non più anche quasi 40 quindi dal mio punto di vista ok shiba potrebbe ritornare ad ok su quei livelli e non dico in ottica speculativa io sono convinto che shiba ok resisterà nel tempo questa è un po' la mia idea però anche in ottica speculativa potrebbe essere un'ottima area di entry ora se andiamo a vedere il numero di holders siamo quasi a un milione di holders quindi secondo me questo è un qualcosa di incredibile in particolare vediamo sempre nei primi posti binance e crypto.com che tra l'altro crypto.com ha venduto 1.40 per cento dei propri shib però ho visto che alcuni portafogli stanno continuando ad acquistare quindi secondo me un ritorno ai shiba inu potrebbe arrivare molto ma molto presto altra notizia molto importante quella che riguarda il delisting ok di cardano da hitoro che inizierà a partire 2022 ed è per questo motivo che cardano che sostanzialmente ha avuto un bel dump insieme a cardano dovrebbe essere delistato anche tron anche se ora andremo a vedere quella collection sia di cardano che di tron per quanto riguarda cardano vediamo come cardano ha perso chiaramente il suo supporto all'interno del quale stava lateralizzando di 1.90 ora si trova 1.58 potenzialmente dove potrebbe finire cardano secondo me ha scontato la notizia né a peggiori ipotesi andiamo a vederci quelli che sono i movimenti tendenzialmente di cardano ok ve lo ricordo anche qui un primo massimo perse poi il 60 per cento che cardano quindi a questi comportamenti fisiologicamente e qui ha perso circa anche qui il 50 per cento quindi a mio punto di vista potrebbe essere una buona area di buy naturalmente come sempre lo sono nei consigli finanziari nei consigli trading andiamo a vedere tron ok tron anche lui ha perso una giornata ieri in seguito della notizia non così tanto come cardano però a mio punto di vista cardano e tron sono molto diverse perché perché secondo me cardano che ha una funzione un progetto che secondo me si svilupperà ancora nel tempo mentre tron lo considero allo stesso livello questo è un po' la media ora andiamo a vedere un po gli nft e metaversi vi avevo già detto da molto tempo come secondo me questi hanno il futuro ed effettivamente stanno galopando perché la capitalizzazione totale di 72 miliardi al momento vediamo addirittura the sandbox ok che non si sta più fermando più 20 per cento giornaliero the sand run più 30 per cento gale a più 51 per cento più 21 per cento e sostanzialmente sta tutto andando e anche le coin ok che di cui avevo parlato io guardate qui aline world più 21.4 per cento e 109 per cento in settimana e infine poi avevamo parlato anche di tvk che sta facendo molto ma molto bene perché anche oggi si è fatto un più bel 32 per cento per cui fatemi sapere anche voi nei commenti qual è la vostra al coin preferita all'interno del mercato in effetti eccola qui terra virtual più 38 per cento giornaliero e più 37 per cento sul settimanale allora andiamo a vederci sandbox ora molti di voi diranno sto aspettando un ritracciamento di sand secondo me oramai sand con le sue terre virtuali e così via è partita letteralmente probabilmente ok se ci sarà un ritracciamento ci sarà un ritracciamento di questo tipo ora quanto ha fatto sandbox sostanzialmente da partire dal 30 ottobre guardate qui ha fatto praticamente il mille per cento ora dove può arrivare la cap è circa di otto miliardi quindi secondo me può avere ancora strada mi ricordo le coin della defi quindi chainlink e così via all'epoca quando stavano un dollaro già le persone dicevano cavolo sta un dollaro è tantissimo e ora siamo a 30 dollari questa è un po' la media per quanto riguarda mana siamo nella stessa situazione ok siamo a 5,73 anche qui in chiaro skyrockets e secondo me sia mana che sandbox saranno due progetti ok che continueranno anche nella prossima bulan probabilmente nel bear market perderanno tantissimo perché naturalmente quando fate questi skyrockets poi si va a perdere tanto però secondo me ok non moriranno infine andiamo a vedere tvk ottima terra virtual ok progetto che mi piace tantissimo anche tlm andremo a vederlo al momento quindi ha superato questa resistenza che avevamo a 0,45 e secondo me anche terra virtual ora si avvia verso non dico noi massimi perché a 1,22 il massimo di terra virtual però secondo me ha molta strada anche perché è un progetto veramente con una cap piccola siamo sotto i 200 milioni infine andiamo a vedere trilium 51 0,51 e 44 ottimo ricordo oltamai a 7 dollari è per questo che mi piace tantissimo ora per analogia sembra un po non so se ve la ricordate i sushi ai tempi quando perse circa il 98 per cento successivamente torna su io penso che trilium sia un qualcosa di assurdo cioè l'hanno manipolata l'hanno buttata giù e secondo me la ributteranno su veramente vorrei sapere anche da voi che cosa ne pensate naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro è il gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di suggerire il botone di like di iscrivervi al canale e ci vediamo presto